Carissimi ministri Siani, riprendiamo i nostri appuntamenti soprattutto per introdurre un argomento importante che è quello relativo alla variante strutturale che l'amministrazione intende approvare nelle sue fasi iniziali come delibera programmatica nelle prossime settimane. Affrontiamo questo tema perché ho visto che è stato oggetto di tante polemiche, anche critiche, in alcuni casi scontate che sono quelle relative alla minoranza consigliare. Ed è bene anche forse precisare alcuni temi della variante, alcuni contenuti della variante strutturale proprio perché è giusto che tutti i cittadini si possano fare un'opinione, ma sentendo anche però la parte come la pensa l'amministrazione, visto che ultimamente sia sui giornali e sugli altri mezzi di comunicazione mi pare sia circolato solo il messaggio della minoranza che dal nostro punto di vista non è corretto e soprattutto non corrisponde fondamentalmente e soltamente alla verità. Parto in primo luogo da lo skyline, da un rendering che è girato e fatto dalla minoranza, per dire come, per ribadire, perché ho visto che si è incenerata anche della confusione, come quel progetto di skyline non è dell'amministrazione comunale e non è neanche il progetto della variante strutturale, ma è frutto dell'immaginazione, penso del tutto arbitraria, proprio di alcuni esponenti della minoranza. Tra l'altro è uno skyline fatto sotto il profilo, forse anche urbanistico, molto male, per cui non rende l'idea e soprattutto, ripeto, non è quello il progetto dell'amministrazione comunale. Faccio, l'ho già detto in alcune cose, faccio un esempio forse emblematico in un skyline che, insomma, non è corretto. L'ampliamento previsto sull'albergo Desilbo Romè, tra l'altro ampliamento neanche che l'amministrazione riprende nella parte strutturale dal piano regolatore già in vigore, quindi un ampliamento già previsto nel piano regolatore, è un ampliamento quello che non potrà mai avvenire sul fronte lago, a fianco al Desilbo Romè, per il fatto che la facciata dello stesso albergo è una facciata che presenta un vincolo storico-artistico, quindi eventuali aumenti volumetrici potranno essere collocati nella parte posteriore o sulla fiancata dell'albergo. Questo per dirvi come si tratta comunque di uno skyline non corretto, frutto di una ricostruzione molto arbitraria, e quindi sotto questo punto di vista è giusto anche rappresentarlo a coloro che magari prendono in buona fede tutto quello che altri vogliono far credere. Mi si è consentito anche una breve nota polemica perché ho visto che sono intervenuti anche due associazioni ambientaliste, sostenendo le ragioni della minoranza, devo dire che purtroppo mi spiace constatare come per l'ennesima volta queste due associazioni ambientaliste che sono Italia Nostra e la Cometa vengano di fatto utilizzate anche per fini di politica locale. Dico questo perché sappiamo benissimo che il Presidente della associazione Cometa sia stato candidato con la lista del Vecchi e dall'altra sappiamo benissimo che lo stesso Consigliere Vecchi è socio di Italia Nostra, quindi mi fa veramente dubitare del fatto che si tratta comunque anche questa di un utilizzo per fini politici di associazioni, del buon nome di queste associazioni, che dovrebbero forse valutare con maggiore obiettività le proposte che un'amministrazione intende fare sullo sviluppo di una città. Detto questo, quello che spiace in questa vicenda è anche il fatto che di fatto dei contenuti della variante strutturale a nessuno interessa nulla o perlomeno non se ne parli, la minoranza non ne voglia parlare, alla minoranza interessa solo sollevare degli scandali, immaginare sulle questioni volumetriche quasi di fosse un'ossessione volumetrica legata allo sviluppo alberghiero di Stresa, ma la variante non è solo questo e ben altro ed è un progetto vero, ambizioso per la città, un progetto che guarda al domani e che è chiaramente un progetto che orienta il suo sviluppo economico e sociale sul settore turistico alberghiero, sul settore anche tradizionale, questo perché in questo momento storico abbiamo verificato come vi sia ancora domanda, vi sia ancora spazio per un sviluppo di questo tipo, in un momento ricordiamolo anche perché spesso ce ne dimentichiamo di gravissima crisi economica dove se si può dare una mano a ciascuno nel proprio piccolo allo sviluppo economico del nostro territorio è un passo importante e un passo avanti, penso che tutti noi dobbiamo in questo momento particolare, dobbiamo pensare a coloro che oggi nel nostro territorio soffrono la situazione economica, quante imprese hanno chiuso nel nostro territorio e io dico spesso che se c'è qualcuno che intende investire dovremmo fare di tutto perché possa investire certo, certo che siamo tutti consapevoli nel rispetto della tradizione del posto, nel rispetto soprattutto del luogo in cui siamo che è Estresa, che quindi ha una sua tradizione legata sicuramente alle ville, legata al paesaggio e su questo anche non c'è dubbio che se ne terrà conto nella variante strutturale perché questo appunto è anche una delle ricchezze di Estresa. Io penso che ognuno nel proprio ruolo, come anche un sindaco, debba sentire questa responsabilità che in questo momento di difficoltà economica quello che è importante è non rimanere mai fermi, ma è quello di rilanciare, pensare al futuro, pensare a creare nuove opportunità. Se non si sente questa responsabilità secondo me è bene non fare neanche gli amministratori. Detto questo dicevo che la variante strutturale occorre dire che era già stata predisposta due anni fa e tra l'altro fu anche inviata a tutte le associazioni ambientaliste, ma nessuna di queste fece pervenire osservazioni di qualunque genere. Era già stata predisposta, poi era stata ridotta in termini quantitativi e oggi può essere presentata, ma presenta una caratteristica fondamentale. Mi permetto adesso in un minuto di descrivere brevemente questa variante strutturale. Presenta una caratteristica fondamentale che è quella che lascia fondamentalmente invariata tutta la collina di Stresa, perché riteniamo che sia una ricchezza ambientale la nostra collina e l'unico sacrificio che va a fare la variante strutturale è quella di consentire delle edificazioni di tipo anche turistico ricettivo sul fronte lago, perché pensiamo che il fronte lago sia un fronte già costruito e che quindi determini, sotto questo punto di vista, un vunus minore rispetto all'andare a modificare una collina che dal nostro punto di vista debba essere preservata. Faccio poi un breve inciso, perché spesso mi viene da dire da dove arrivano le critiche. Noi mesi fa abbiamo approvato il piano casa del governo, che prevede un aumento, come sapete, volumetrico delle abitazioni. L'amministratore comunale aveva cercato di limitare l'attuazione di questo piano casa proprio per la tutela ambientale del territorio, quindi consentendo uno sviluppo del piano casa, lo dico adesso in maniera semplicissima, ma per rendere l'idea, in collina in senso orizzontale e non in senso verticale. Questo perché si voleva proprio che la collina di Stresa, proprio per un rispetto ambientale e paesaggistico, potesse fondamentalmente rimanere invariata e non potessero pertanto nascere, tra virgolette, nell'ambito stesso della collina, delle costruzioni troppo alte che quindi potessero essere considerate un vero e proprio vunus, visto che ne abbiamo già tanti in collina, rispetto al lago stesso. Quindi pensate, proprio sul piano casa la nostra minoranza proponeva addirittura di poter consentire uno sviluppo in altezza delle edificazioni, soprattutto con dei gravi problemi in collina, per cui posso solo dire come battuta da che pulpito possono arrivare certe prediche. Detto questo, mi dispiace che i contenuti dell'area strutturale non siano presi in considerazione perché viene stabilito un modello nuovo della città, però per questo modello nuovo della città mi riservo di fare un video ancora più approfondito perché è bene sotto questo punto di vista che possiate essere forse meglio informati e che non possa passare solo il messaggio delle minoranze. Comunque dedicherò anche un altro video nei prossimi giorni a illustrarvi anche lo sviluppo proprio alberghiero della città, proprio anche per confutare queste polemiche che penso siano polemiche frutto più di una lotta politica vera e propria a livello locale che rischia però di degenerare anche coinvolgendo persone, come ho visto nella petizione, che in realtà a loro non è stata ben rappresentata qual è la verità e qual è veramente la situazione della variante strutturale. Per cui il mio è un arrivederci ai prossimi giorni.